Alla Stirlato Mugello è così che prepariamo le macchine per voi. Lavaggio a alta pressione su questa bellissima Mini. Per avere sempre i cerchi lega puliti, una macchina sempre in perfette condizioni. Stirlato Mugello vi presenta come facciamo a lavare le macchine per voi. Ecco qua. Curiamo maniacalmente dalla A alla Z della vettura, compreso anche il lavaggio. Usiamo solo spazzole anti-graffio per una carrozzeria sempre perfetta. Solo da Stirlato Mugello riceverete un servizio completo dalla A alla Z. Dalla preparazione della vettura, tagliando compreso, al lavaggio. Solo e esclusivamente lavaggio con spazzole anti-graffio. Come sta succedendo in questo momento per questa bellissima Mini del 2007. Voilà. E da ultimo, una bella passata di cera, per averla sempre lucida e splendente. Vi aspettiamo alla Stirlato Mugello a Borgo San Lorenzo, in Viale Giovanni XXIII. Se avete bisogno, nel mese agosto siamo sempre aperti, basta contattare il numero verde 818 89 42. 818 89 42 è il numero verde della Stirlato Mugello. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.